Più di 600 firme già raccolte contro il piano di dimensionamento scolastico proposto dal Comune e arriva anche un documento di protesta contro il dimensionamento scolastico e la conseguente richiesta di sospensione che è stato già indirizzato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti e a tutti gli altri attori coinvolti. Questo dopo l'Assemblea di lunedì 21 ottobre, dove si erano già cominciate a raccogliere le firme. All'unanimità l'Assemblea ha espresso il proprio dissenso in riferimento appunto al piano di dimensionamento scolastico in quanto, secondo gli attori coinvolti, soprattutto insegnanti, ma anche genitori, penalizza il territorio già fortemente deprivato e disgregato a causa del sisma, la popolazione ancora dislocata perifericamente e trova nei plessi scolastici più centrali il luogo privilegiato per testere legami, per recuperare un senso di appartenenza alla città. Il piano, precorre anche un'azione che va eseguita al termine o quantomeno uno stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione degli edifici scolastici, genera molta preoccupazione nelle famiglie perché scardina punti di riferimento ormai riconosciuti e consolidati nel tempo, ma pregiudica anche la continuità relazionale e renderà obsoleti i documenti didaccici pluriennali, elaborati tenendo conto delle realtà, delle specificità e delle risorse dei vari territori. Mette in discussione poi le realtà territoriali, scrivono, dove la scuola ha svolto un ruolo fondamentale nella ricostruzione del tessuto sociale e non tiene conto del coinvolgimento dei portatori di interesse che subiranno una decisione presa dall'alto e non partecipata, e cioè studenti e studentesse, famiglie, docenti, personale scolastico, tutto. Si chiede dunque di sospendere con effetto immediato l'attuale deliberazione di giunta del comune del piano di dimensionamento e l'intero iter procedurale per sostenerne un efficace, ragionato e partecipato che coinvolga fattivamente tutto il personale scolastico nelle sede decisionali. Sono state raccolte, come si diceva, più di 600 firme che verranno presentate a raccolta terminata. Un documento firmato dal personale scolastico e dalla componente genitoriale di tutte le scuole del comune dell'Aquila.